L'ATI idrico del Grigento smuove le acque, ma Gergenti Acque non le agita più di tanto. Anzi, il suo massimo rappresentante, dopo la decisione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale di avviare l'ITER per procedere, qualora dovessero esserci nelle condizioni alla recessione del contratto, prova a fare chiarezza mettendo i puntini sulle I. Parla il presidente Marco Campione. Ci sono società non italiane annunciate interessate ad entrare nel settore della fornitura del servizio idrico. Non appena si concretizzeranno alcune possibilità che attualmente sono in cantiere, cederemo le nostre quote. E sulle inadempienze e criticità contestate alla società che gestisce il servizio idrico in buona parte del territorio argentino, Campione afferma appena ci notificheranno questo elenco, valuteremo ad oggi a sicura non esiste un'attività che ci è stata segnalata e che non abbiamo realizzato. La domanda è, osserva ancora Campione, se abbiamo commesso degli errori o delle inadempienze perché non ci sono state contestate dall'ambito dall'assemblea prima di oggi? Ma se passasse la risoluzione, aggiungiamo noi, cosa farebbe Girgentiacque? Ci difenderemo nelle sedi opportune, sottolinea Campione che poi aggiunge, va però precisato che non solo Girgentiacque rimarrebbe il gestore nella fase di transizione ma la convenzione non prevede la possibilità che si passi alla gestione pubblica. Bisognerà procedere insomma per l'affidamento del servizio tramite bando e la società, se ci saranno le condizioni, avverte Campione parteciperà alla gara. Bisogna dire inoltre che abbiamo speso delle somme che ci devono essere rimborsate. Per fare un esempio, conclude Marco Campione, abbiamo speso 14 milioni di euro per il progetto dei contatori. Devono essere rimborsati subito, indipendentemente dalla questione della rete idrica. Grazie. 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 Grazie.